Tante le iniziative annullate o sospese per contenere la diffusione del coronavirus. Tutte misure che non devono far pensare a una nuova apocalisse ma che servono solo a evitare nuovi contagi. Così anche la nostra regione si adegua. Il Polimoda di Firenze ha deciso per precauzione di sospendere le attività accademiche da oggi fino al sabato. Sospesa anche la domenica gratuita per i musei il prossimo primo marzo. Niente gite dopo l'iniziativa del Vescovo di San Miniato che sabato aveva imposto lo stop allo scambio della pace. Ieri la Basilica Fiorentina di Santo Spirito ha seguito l'esempio ma ha aggiunto una nuova storica disposizione. Niente acqua santa. Le acqua santiere resteranno vuote per limitare il contagio. Via l'acqua santa anche dalle chiese di Grosseto e provincia. Chiusi alcuni centri religiosi di altre fedi. All'Università di Firenze invece le frequenze dei corsi saranno facoltative. Inoltre sulla base delle nuove disposizioni governative le scuole dovranno cancellare tutte le gite. È stata annullata anche la cerimonia di premiazione del concorso Carta di Viareggio rivolto ai licei artistici, agli istituti tecnici e professionali con indirizzo grafico che doveva tenersi domani in regione. Tutte le attività Erasmus che si realizzano in Italia, in particolare nelle regioni sotto osservazione, possono essere definitivamente annullate, rinviate e riprogrammate al fine di tutelare la salute dei partecipanti italiani e stranieri ed evitare la diffusione del coronavirus. L'evento culturale dedicato al cantante lirico Enrico Caruso, in programma domani a Villa Caruso, bello sguardo di lastra a signa, è stato rimandato a data da destinarsi. Molti gli eventi sportivi annullati. Tra l'altro, Udinese-Fiorentina, che dovrebbe giocarsi sabato prossimo, potrebbe essere disputata a porte chiuse.